Sono ormai entrati nel vivo i campionati di calcio dilettantistico, con alcune squadre che lo scorso weekend hanno approfittato del turno casalingo per presentare, attraverso una grande festa a cui hanno partecipato anche esponenti delle rispettive amministrazioni comunali, il proprio settore giovanile. Tra queste la Juventus Domo in promozione e il Verbani in eccellenza, con pagini che, non è un segreto, da sempre fanno dei giovani uno dei loro punti di forza. Per quanto riguarda la Juventus Domo, dotata di un settore giovanile in forte crescita ormai da diverso tempo, in questa stagione i tesserati sono ben 187, divisi in quattro squadre agonistiche e dieci squadre tra attività di base e primi calci, guidate da 15 istruttori qualificati. L'organizzazione è in capa al direttore generale Daniele Massoni, insieme a Giampiero Zani, al responsabile del settore giovanile Maurizio Palmieri e al responsabile tecnico Paolo Cacello. L'obiettivo della società è quello di creare sempre più, attraverso la crescita e l'attenzione nei confronti del vivaio, un polmone della prima squadra in una società che è sempre più proiettata verso il centenario del 2029. A Verbania sono invece circa 200 i tesserati del settore giovanile, tra agonistica e scuola calcio. 11 le squadre del vivaio bianco cerchiato, che coprono pressoché tutte le fasce d'età, dagli under 19 ai giovani primi calci classe 2017, senza contare i due gruppi di piccoli amici classe 2018 e 2019. Anche in questo caso, l'obiettivo dichiarato dalla società e dal responsabile del settore giovanile Cristiano Cavalli è, come ribadito ormai da qualche anno, quello di portare il maggior numero di formazioni possibili a disputare le massime categorie regionali, fornendo al tempo stesso la possibilità per i ragazzi di esordire in prima squadra o di spiccare il volo verso realtà di categoria superiore, come accaduto al giovane 2008 Villa, passato quest'anno alla Provercelli.